ci stanno e poi siamo vicini e poi 30 e poi 62 e poi si si è un 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 uh i un 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 su aspetta aspetta i capelli i capelli stiamo sprimendo la stessa foto la notte è finita vado io lo trovo ieri infatti ridiamo nell'antidio grazie a tutti non è vero sto facendo finta come faccio a fare finta senti che vuoi